a quei tempi era sempre festa bastava uscire di casa e traversare la strada per diventare come matte e tutto era bello specialmente di notte e tornando stanche morte speravamo ancora che qualcosa succedesse che scoppiasse un incendio che in casa nascesse un bambino o magari venisse giorno all'improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare camminare fino ai prati e fin dietro le colline siete sane siete giovani dicevano siete ragazze non avete pensieri si capisce eppure una di loro quella tina che era uscita a zoppa dall'ospedale e in casa non aveva da mangiare anche lei rideva per niente e una sera trottando dietro gli altri si era fermata e si era messa a piangere perché dormire era una stupidaggine e rubava tempo all'allegria genia se queste crisi la prendevano non si faceva accorgere ma accompagnava a casa qualche altra e parlava parlava finché non sapevano più cosa dire veniva così il momento di lasciarsi che già da un pezzo erano come sole e genia tornava a casa tranquilla senza rimpiangere la compagnia le notti più belle si capisce erano al sabato quando andavano a ballare l'indomani si poteva dormire ma bastava anche meno e certe mattine genia usciva per andare a lavorare felice di quel pezzo di strada che l'aspettava le altre dicevano se torno tardi poi ho sonno se torno tardi me le suonano ma genia non era mai stanca e suo fratello che lavorava di notte la vedeva soltanto a cena e di giorno dormiva nelle ore di mezzogiorno severino si girava nel letto quando lei entrava genia preparava la tavola e mangiava affamata masticando ad agio ascoltando i rumori della casa il tempo passava ad agio come fa negli alloggi vuoti e genia aveva tempo di lavare i piatti che aspettavano nel lavandino di fare un po' di pulizia poi di stendersi sul sofà sotto la finestra e lasciarsi assopire al tichettio della sveglia dall'altra stanza qualche volta chiudeva anche le imposte per far buio e sentirsi più sola tanto rosa alle altre tre avrebbe sceso le scale fermandosi a grattare contro l'uscio piano per non svegliare severino finché lei non le rispondesse che era sveglia allora uscivano insieme e si lasciavano al tram di comune zinea e rosa non avevano che quel pezzo di strada e una stella di perline nei capelli ma una volta che passavano davanti a una vetrina e rosa disse sembriamo sorelle genia s'accorse che quella stella era ordinaria e capì che doveva portare un cappellino se non voleva apparire anche lei un'operaia tanto più che rosa soggetta ancora padre e madre non avrebbe potuto pagarsene uno che chissà quando quando passava a svegliarla rosa entrava se non era già tardi e genia si faceva aiutare a rimettere in ordine ridendo sotto voce di severino che come tutti gli uomini non sapeva che cosa voglia dire tenere una casa rosa lo chiamava tuo marito per continuare lo scherzo ma non di rado genia si rabbuiava e ribatteva che avere tutte le noie della casa ma non l'uomo era poco allegro scherzava genia perché il suo piacere era proprio di starsene quell'ora in casa da sola come una padrona ma rosa bisognava di tanto in tanto far capire che non erano più bambine neanche per strada rosa sapeva stare e faceva dei versacci rideva si voltava genia l'avrebbe pestata ma quando andavano insieme a ballare rosa era necessaria perché dava a tutti del tu e con le sue batterie faceva capire agli altri che genia era più fine in quell'anno così bello che cominciavano a vivere da sole genia si era presto accorta che la sua differenza dalle altre era di essere sola anche in casa sebrino non contava e di potere a sedici anni vivere come una donna per questo finché portò la stella nei capelli si lasciò accompagnare da rosa che la divertiva non c'era un'altra in tutto il rione che fosse scema come rosa quando voleva sapeva smontare chiunque ridendo e guardando in aria e delle serentiere non faceva ne diceva niente che non fosse per commedia e litigava come un gallo che cos'hai rosa diceva qualcuno mentre si aspettava che cominciasse l'orchestra paura e le uscivano gli occhi dalla testa ho visto là dietro un vecchio che mi fissa mi aspetta fuori ho paura l'altro non ci credeva sarà tuo nonno stupido allora balliamo no perché ho paura genia a metà del giro sentiva a quell'altro gridare sei una maleducata una strega vatti a nascondere torna in fabbrica allora rosa rideva e faceva ridere gli altri ma genia continuando a ballare pensava che era proprio la fabbrica che riduceva così una ragazza e del resto bastava guardare i meccanici e anche loro cominciavano la conoscenza facendo questi scherzi se nella compagnia ce n'era qualcuno si poteva star certi che prima di notte una ragazza si arrabbiava o se era più scema piangeva prendevano in giro come rosa volevano sempre portarle nei prati con loro non si poteva discorrere e bisognava stare subito sulla difesa ma avevano di bello che certe sere si cantava e cantavano bene specialmente se veniva ferruccio con la chitarra uno alto biondo che era sempre disoccupato ma aveva ancora le dita nere e fiaccate dal carbone pareva impossibile che quelle mani grosse fossero così brave e genia che se le era sentite una volta sotto la scella mentre tornavano tutti insieme dalla collina stava attenta a non guardarle mentre suonavano rosa le aveva detto che quel ferruccio si era informato di la e due o tre volte e genia aveva risposto digli che prima si faccia le unghie una volta dopo si aspettava che ferruccio ridesse e invece ferruccio neanche l'aveva guardata ma venne il giorno che genia uscì dalla teie aggiustandosi il cappello con le due mani e trovò sul portone proprio rosa che le saltò incontro che c'è sono scappata dalla fabbrica fecero insieme il marciapiede fino al tram e rosa non parlava più genia seccata non sapeva cosa dire fu quando scesero dal tram vicino a casa che rosa brontolando disse piano che aveva paura di essere incinta genia le diede della stupida e litigarono sull'angolo poi la cosa passò perché rosa si era messa in quello stato solamente per lo spavento ma intanto genia fu più agitata di lei perché le pareva di essere stata truffata e lasciata a fare la bambina mentre gli altri si divertivano e proprio da rosa poi che non aveva neanche un po di ambizione io valgo di più diceva genia a sedici anni è troppo presto peggio per lei se si vuole sprecare diceva così ma non poteva ripensarci senza umiliazione perché l'idea che quelle altre senza mai dirlo fossero tutte passate nei prati mentre lei che viveva da sola la mano di un uomo dava ancora il batticuore quest'idea le tagliava il fiato perché quel giorno sei venuta a dirlo a me chiesa rosa un pomeriggio mentre uscivano insieme e a chi vuoi che lo dicessi stavo fresca perché non mi hai detto niente prima rosa che adesso era tranquilla rideva cambiò il passo se non si dice è più bello porta male parlarne genia pensava è una stupida adesso ride ma prima voleva ammazzarsi non è ancora una donna ecco cos'è intanto anche da sola quando andava e veniva per la strada pensava che siamo giovani tutte e bisognerebbe avere subito vent'anni per sapersi regolare per tutta una sera genia guardò l'innamorato di rosa pino dal naso storto uno piccolo che sapeva soltanto giocare al biliardo e non faceva niente e parlava nell'angolo della bocca zinea non capiva perché rosa venisse ancora al cinema con lui dopo aver provato quant'era vigliacco non poteva levarsi dalla mente quella domenica che erano andati tutti insieme in barca e s'era visto che pino aveva la schiena gina che stava attenta alle altre non si era accorta di rosa e di pino nel caldo del mezzogiorno erano rimaste sole nel barcone lei e tina la zoppa gli altri compresa rosa erano saliti sulla riva dove ci sentivano gridare tina che aveva tenuto sott'ana e camicetta disse a ginia se non viene nessuno mi svesto per prendere il sole ginia le disse che avrebbe fatto lei la guardia ma invece tendeva l'orecchio alle voci e ai silenzi della riva passò un po' di tempo che tutto taceva sull'acqua tranquilla tina era stesa sotto il sole con un asciugamano intorno ai fianchi allora ginia era saltata sull'erba e aveva fatto qualche passo a piedi nudi non si sentiva più la voce di amelia che si era tirata dietro tutti gli altri ginia scema immaginando che giocassero a nascondersi non li aveva cercati e se n'era tornata sulla barca amelia almeno si sapeva che faceva un'altra vita suo fratello era meccanico ma lei compariva solo di tanto in tanto le sere di quell'estate e non dava confidenza a nessuno ma rideva con tutti perché aveva 19 o 20 anni ginia avrebbe voluto avere la sua statura perché con le gambe di amelia stavano bene sì le calze fini quantunque vista in costume da bagno amelia era sporgente di fianchi e come fattezza dava un po l'aria a un cavallo sono disoccupata disse a ginia una sera che lei le guardava il vestito ho tempo tutto il giorno per studiarmi il modello ho imparato a tagliare lavorando come te in sartoria lo sai ginia pensava che il bello era farseli fare ma non lo disse fecero invece un giro insieme quella sera e ginia l'accompagnò fino a casa perché si sentiva tutta sveglia e non pensava a dormire aveva piovuto e l'asfalto e le piante erano tutte lavate si sentiva il fresco in faccia ti piace andare a spasso diceva amelia ridendo che cosa dice tuo fratello severino severino a quest'ora è sul lavoro tutti i lampioni li accende e li sorveglia lui allora è lui che fa lume alle coppie come vestito da casista ma no disse ginia ridendo sorveglia gli interruttori della centrale passa le notti davanti a una macchina e vivete da soli non ti fa la morale amelia parlava con l'allegria di chi conosce tutti quanti e ginia le dava senza fatica del tu sei disoccupata da molto le chiese un lavoro ce l'ho mi faccio dipingere a sentire la voce pareva uno scherzo e ginia la guardò dipingere come di faccia di profilo vestita spogliata si dice la modella ginia ascoltava fingendo stupore per farla parlare ma sapeva benissimo quel che amelia diceva soltanto non avrebbe mai creduto che ne parlasse con lei perché a nessuno di loro amelia l'aveva mai detto e il segreto l'aveva scoperto rosa soltanto per via di portinaie vai davvero da un pittore andavo disse amelia ma d'estate gli costa meno dipingere fuori l'inverno fa troppo freddo per stare nuda in posa e così non si lavora quasi mai dispogliavi e già disse amelia poi prese ginia sotto brazzo e disse ancora come lavoro è bello perché tu non fai niente e stai a sentire i discorsi andavo una volta da uno che aveva uno studio magnifico e quando veniva gente prendevano il tè si impara a stare al mondo là in mezzo meglio che il cinematografo entravano mentre posavi chiedevano permesso il più bello sono le donne lo sapevi che anche le donne fanno dei quadri pagano una ragazza per copiarla nuda ma perché non si mettono davanti allo specchio capirai se copiassero un uomo magari ne copiano disse gina non dico di no disse amelia fermandosi davanti al portone e strizzò l'occhio ma certe modelle le pagano il doppio va là che il mondo è bello perché è vario ginia le chiese perché non veniva qualche volta a trovarla e tornò sola camminando sui riflessi dell'asfalto che il tepore della notte aveva quasi asciugato vecchia com'è racconta troppo le sue cose pensava ginia contenta se facessi la sua vita io sarai più furba ginia fu un po delusa quando si accorse che passavano i giorni e amelia non veniva a trovarla si capiva che quella sera non aveva cercato di fare amicizia ma allora pensava ginia vuol proprio dire che racconta quelle cose a chiunque e che è scema davvero forse mi credo una bambina di quelle che credono tutto e ginia raccontò una sera a molte di aver visto in un negozio un quadro che si capiva che la modella era amelia ci credevano tutte ma ginia volle dire che l'aveva conosciuta da come era fatto il corpo perché quando la modella è nuda la faccia i pittori gliela cambiano apposta figurati se in questi riguardi disse rosa e la presero in giro per la sua ingenuità io sarei contenta se un pittore mi facesse il ritratto e mi pagasse ancora disse clara allora discussero se amelia era bella e il fratello di clara che era stato in barca con loro si mise a dire che nudo era più bello di lui tutte ridevano e ginia disse ma non l'ascoltarono se non fosse ben fatta un pittore non la copierebbe restò umiliata quella sera e avrebbe pianto dalla rabbia ma i giorni passavano e la volta che incontrò di nuovo amelia scendendo dal tram si accompagnarono discorrendo ginia era persino più elegante di amelia che camminava col cappello in mano e rideva mostrando i denti in domani pomeriggio amelia venne a cercarla comparvene il caldo sulla porta spalancata e ginia la vide dal suo buio senza essere vista si fecero feste una volta spalancate le imposte e amelia guardava intorno facendosi vento col cappello l'idea dell'uscio mi piace disse amelia è fortunata a caccia mia non si potrebbe perché stiamo a pian terreno poi guardò nell'altra stanza dove dormiva severino dicendo da noi c'è la fiera in due stanze siamo in cinque senza i gatti uscirono insieme quando fu l'ora e ginia le disse quando sei stufa del tuo pian terreno vieni a trovarmi e si sta in pace voleva che amelia capisse che non parlava per dir male dei suoi ma perché era contenta che si fossero capite e amelia senza dire sì né no le offrì un caffè prima del tram poi l'indomani non si vide né il giorno dopo venne invece una sera senza cappello e si sedette sul sofà e chiese ridendo una sigaretta ginia finiva di lavare i piatti e severino si faceva la barba e diede lui la sigaretta e gliela accese con le dita bagnate e scherzarono tutti e tre sui lampioni severino doveva scappare ma fece in tempo a dire a ginia che non passasse la notte bianca amelia lo guardò uscire con una faccia divertita non cambi mai sala da ballo disse a ginia quei ragazzi sono tanto cari ma tengono caldo come le tue amiche se ne andarono al centro tutte e due senza cappello seguendo il fresco dei corsi e per cominciare presero il gelato e leccandolo guardavano la gente e ridevano con amelia era tutto più facile si si divertiva di gusto come se niente importasse e quella sera dovessero succedere le cose più varie con amelia che aveva vent'anni e camminava e guardava sfazzata ginia sapeva di potersi fidare amelia non sarà neanche messa le calze per il caldo e quando passarono vicino a una sala da ballo di quelle con l'orchestra sottovoce e i paralumi sui tavolini ginia aveva paura di dovercela accompagnare non c'era mai stata e trattenne il fiato amelia disse non vuoi mica andare qui dentro fa caldo e non siamo vestite disse ginia passeggiamo è più bello neanche io ne ho voglia disse amelia ma che cosa facciamo non vuoi mica fermarti su un angolo e ridere dietro alla gente che passa che cosa vorresti se non fossimo donne avremmo l'automobile e a quest'ora saremmo sui laghi a fare il bagno chiacchieriamo chiacchieriamo camminando disse ginia potremmo andare in collina a bere un litro e cantare una volta ti piace il vino ginia diceva di no e amelia guardava l'ingresso della sala però un bicchierino lo beviamo vieni via chi si annoia è colpa sua il bicchierino lo presero nel primo caffè che trovarono e appena uscite ginia sentì nell'aria un fresco che prima non c'era e pensò che era bella e che d'estate i liquori rinfrescassero il sangue intanto amelia le spiegava che chi fa niente tutto il giorno ha diritto perlomeno a svagarsi di sera ma viene un momento certe volte che ha paura del tempo che passa e non sa più se vale la pena di correre tanto a te non succede io corro solo per andare a lavorare disse ginia mi diverto così poco che non ho tempo di pensarci sei giovane tu disse amelia a me succede che non sto ferma neanche quando lavoro quando posavi stavi ferma disse ginia camminando amelia si mise a ridere e anche per idea le modelle più in gamba sono quelle che fanno ammattire il pittore se non ti muove ogni tanto lui si dimentica che posi e ti tratta come una serva che si fa pecora il lupo la mangia ginia rispose con un semplice sorriso ma una parola le scottava in gola più irresistibile del liquorino o allora che chiese ad amelia perché non andavano a sedersi al fresco e bere un altro bicchierino ma sì disse amelia lo presero al banco perché costava di meno ora ginia cominciava a sentirsi accaldata e senza fatica mentre uscivano disse ad amelia volevo chiederti questo vorrei vederti posare ne parlarono per un pezzo di strada e amelia rideva perché nuda o vestita che sia la modella interessa agli uomini non a un'altra ragazza la modella sta ferma cosa c'è da vedere ginia disse che voleva vedere il pittore dipingerla non aveva mai visto maneggiare i colori e doveva essere bello non è per oggi né per domani diceva adesso sei senza lavoro ma se torni da qualche pittore mi devi promettere che conduce anche me amelia rise un'altra volta e le disse che quanto ai pittori era il meno sapeva dove stavano e poteva condurcela ma sono carogne sta attenta anche ginia rideva poi si trovarono sedute su una panchina e nessuno passava perché non era più né presto né tardi finirono la sera in una sala da ballo in collina da quella volta amelia venne sovente a prenderla per uscire o discorrere insieme entrava nella stanza e parlava forte e non lasciava dormire severino quando rosa passava nel pomeriggio a chiamare ginia le trovava tutte e due pronte ad uscire amelia finiva la sua sigaretta quando l'aveva e dava dei consigli a rosa che le aveva raccontata la storia del suo pino si capiva che nella sua portineria non stava volentieri e non avendo niente da fare tutto il giorno si accontentava della loro compagnia anche con rosa che quando erano sole prendevano in giro amelia scherzava facendo finta di non credere alle sue storie ridendole in faccia ginia entrò in confidenza con amelia quando fu convinta che per quanto così vivace era una povera diavola ginia ormai lo capiva solo guardarle gli occhi o la bocca mal truccata amelia andava senza calze ma perché non ne aveva aveva sempre un bel vestito ma non ne aveva un altro ginia se ne convinse una volta che si accorse che anche lei quando usciva senza cappello si sentiva più matta chi le dava sui nervi era rosa che l'aveva capita subito val la pena aver fatto la vita disse rosa per doversi mettere a letto quando si strappa il vestito diverse volte ginia le chiese perché non tornava a posare e amelia le diceva che per trovare lavoro bisogna non essere disoccupate sarebbe stato bello non far niente tutto il giorno e uscire insieme a passeggiare sull'ora che rinfresca ma essere così eleganti che mentre guardavano le vetrine la gente guardasse loro essere libera come sono io mi fa rabbia diceva amelia ginia avrebbe pagato a sentirla parlare con voglia di molte cose che a lei piacevano perché la vera confidenza è sapere quel che desidera un altro e quando piacciono le stesse cose una persona non dà più soggezione ma ginia non era sicura che amelia quando passavano verso sera sotto i portici guardasse quello che lei guardava non si poteva mai giurare che le piacesse quel cappello quella stoffa e c'era sempre da aspettarsi che ridesse come faceva con rosa sola come era tutto il giorno non diceva mai quel che avrebbe voluto fare di bello o se parlava non parlava sul serio hai mai fatto attenzione aspettando qualcuno quante facce da maiale e quante gambe da gallina passano è un divertimento forse amelia scherzava ma forse era vero che passava così i quarti d'ora e ginia a buon conto pensava che era stata ben scema a lasciarle capire quella sera la sua gran voglia di veder dipingere adesso quando uscivano era amelia che sceglieva di andare in un posto o in un altro e ginia si lasciava portare facendola compiacente quando tornarono nella sala da ballo di quella sera ginia che sarà tanto divertita allora non riconobbe più né lampade né orchestra e le piacque soltanto il fresco che veniva dai balconi aperti voleva dire che non si sentiva così ben vestita da scendere in mezzo ai tavolini ma amelia si era messa a parlare con un giovanotto che le dava del tu e cessata la musica ne spuntò un altro che la salutò con la mano e amelia voltandosi disse se la con te quel tale allora ginia fu contenta di essere stata riconosciuta da qualcuno ma il giovanotto era scomparso e un tale antipatico che aveva ballato con lei passò in fretta senza vederla pareva a ginia che la prima sera non fossero mai state sedute a un se non per riprendere fiato e invece adesso aspettarono un pezzo sotto la finestra e amelia che fu la prima a sedersi disse forte è un divertimento anche questo certo le altre in quella sala non erano meglio vestite di amelia e molte non avevano le calze ma ginia guardava specialmente le giacche bianche dei camerieri e pensava che fuori era pieno di automobili poi capì di essere scema e sperare che là in mezzo ci fosse il pittore di amelia quell'anno faceva tanto caldo che bisognava uscire ogni sera e a ginia pareva di non avere mai capito prima che cosa fosse l'estate tanto era bello uscire ogni notte per passeggiare sotto i viali qualche volta pensava che quell'estate non sarebbe finita più è insieme che bisognava far presto a godersela perché cambiando la stagione qualcosa doveva succedere per questo non andava più con rosa alla vecchia sala o nel loro cinema ma qualche volta usciva sola e correva a un cinema del centro poteva farlo lei se lo faceva amelia amelia venne una sera e le disse mentre uscivano ieri ho trovato ginia non si stupì se l'aspettava chiese tranquilla se cominciava subito già cominciato stamattina disse amelia due ore sei contenta disse ginia poi le chiese che quadro facevano nessun quadro mi fa dei disegni mi copia la faccia io parlo ogni tanto lui butta giù un profilo non è un lavoro che duri non posi allora disse ginia cosa credi fece amelia che posare sia soltanto mettersi nude e star lì domani ritorni disse ginia amelia ci tornò l'indomani e per diversi giorni la sera dopo ne parlava ridendo e raccontava del pittore che non stava mai fermo e le chiedeva se qualcuno l'aveva mai disegnata a quel modo camminando come faceva lui mi ha fatto un nudo stamattina a di quelli che la sanno lunga e ci arrivano poco alla volta ma poi con quattro disegni ti mettono in carta e di te non han più bisogno ginia le chiese com'era emelia disse uno metto come l'hai trovato è stato per caso venimi a prendere domani disse amelia combinarono di andarci insieme per il pomeriggio di sabato sotto il sole per tutta la strada quel pomeriggio amelia la fece ridere sbucarono per una scala chiocciola in un grande stanzone semibuio che solo in fondo da uno spacco di tende prendeva un po di luce fresca ginia col cuore che batteva si era fermata sugli ultimi scalini amelia gridò forte buongiorno e camminò fino al centro nella penombra e dalle tende uscì un uomo grasso e barbetta grigia che disse scrollando le mani niente da fare ragazze oggi scappo aveva indosso un camicione chiaro che diventò giallo sporco quando lui voltandosi scostò un poco la tenda per far luce quest'oggi ragazze il lavoro non serve si vuole aria quest'oggi ginia non s'era mossa dal suo gradino vedeva controluce a distanza le gambe di amelia diceva piano a se stessa amelia andiamo sarebbe questa l'amichetta che le piace conoscermi ma è una vera bambina fatti vedere in luce ginia salì l'ultimo gradino contro voglia sentendosi addosso gli occhi grigi e curiosi non sapeva se da vecchio o da furbo sentì pure la voce di amelia tagliente la voce seccata che diceva ma avevamo appuntamento che vuoi farci disse l'altro che vuoi farci anche voi altre siete stanche il lavoro è una cosa che va fatta con calma non sei contenta se ti lascio riposare allora amelia andò a sedersi su una sedia nell'ombra delle tende e a gina parve di stare chissà quanto senza sapere che cosa rispondere alle occhiate di quei due che si guardavano e guardavano lei le pareva che quel tipo scherzasse ma non con loro parlava ancora con amelia parlava a scatti diceva sempre che vuoi farci un bel mattino saltò indietro così piccolotto com'era e allargò di più il tendaggio nello stanzone vuoto c'era odore di calce fresca e di vernice siamo sudate disse amelia ci lascia almeno rinfrescare vero dinia disse così mentre la barbetta si voltava di nuovo e apriva i grandi vetri che davano sul cielo amelia con le gambe accavallate lo guardava e rideva davanti alla finestra c'era un cavalletto con una tela sopra coperta di macchie di colore buttate e raschiate se non si lavora adesso che c'è luce quando vuole lavorare disse amelia scommetto che va a tradirmi con un'altra modella con tutto il mondo ti tradisco gridò il pittore chino a terra credi di valere più di una pianta o di un cavallo io lavoro anche quando passeggio cosa credi e intanto lo vistava in una cassa sotto il cavalletto e buttava in aria dei fogli delle scatole dei pennelli amelia saltò dalla sedia si tolse il cappello e ammiccò a ginia perché non fai uno schizzo alla mia amica disse ridendo non ha mai posato per nessuno il pittore sarà voltato è quello che faccio disse la sua espressione mi interessa tenendo in mano una matita cominciò a camminare a distanza intorno a ginia con la testa piegata carezzandosi la barba e la fissava come un gatto ginia in mezzo alla stanza non osava muoversi poi le disse di farsi in luce e senza perderla d'occhio buttò un foglio sulla tela del cavalletto e cominciò a disegnare nel cielo c'era una nuvola gialla e dei tetti ginia fissava quella nuvola col cuore che batteva e sentì amelia dir qualcosa nella stanza e camminare e soffiare ma non la guardò quando amelia la chiamò a vedere il disegno ginia dovette chiudere gli occhi per abituarsi alla penombra poi si chinò ad agio sul foglio e riconobbe il suo cappello ma la faccia le parve di un'altra una faccia addormentata senza senso con la bocca aperta come se parlasse dormendo è preoccupante diceva barbetta davvero nessuno ti ha mai disegnata le fece togliere il cappello e le disse di sedersi e parlare con amelia sedute si guardarono con voglia di ridere e quell'altro riempiva altri fogli amelia faceva dei gesti e le diceva di non pensare alla posa preoccupante disse ancora barbetta guardando di sbieco si direbbe che il profilo vergine è informe ginia chiese ad amelia se lei non posava e amelia disse forte oggi ha trovato te non ti molla di certo già che parlavano ginia le chiese se non si potevano vedere i suoi ritratti dei giorni passati allora amelia si alzò e andò a prendere in fondo alla stanza una cartella gliela aprì sulle ginocchia e disse guarda ginia voltò diversi fogli e al quarto e al quinto era sudata non osava parlare perché si sentiva addosso gli occhi grisi di quell'uomo anche amelia le guardava aspettando finalmente le disse ti piacciono? ginia levò la faccia cercando di sorridere non ti conosco disse poi li fece passare a uno a uno tutti quanti quando ebbe finito era più calma dopo tutto amelia le stava davanti vestita e rideva disse come una stupida è lui che li ha fatti amelia che non capì rispose forte io no di certo quando barbetta ebbe finito ginia avrebbe voluto essere ancora bagliata come prima per chiudere gli occhi e aspettare ma amelia gridò che venisse e davanti al gran foglio anche ginia fu meravigliata c'erano tante teste sue buttate a capriccio sul foglio qualcuna per storto qualche volta una smorfia che non aveva mai fatto ma i capelli le guance le narizzi erano veri erano i suoi guardò barbetta che rideva e le parve impossibile che fossero quegli occhi grigi di prima poi avrebbe pestato amelia che cominciò a tirar stoccate e a insistere che un'ora era un'ora e che gina lavorava per vivere ribatté che era venuta con lei per caso e che non voleva rubarle il mestiere barbetta rideva tra i denti e disse che doveva uscire venite vi pago il gelato ma io scappo grazie a tutti